Avvisiamo i passeggeri del treno cumana, delle ore Bagnoli e Bagnoli, proveniente da Bagnoli, è diretto a Bagnoli, è in arrivo al binario Bagnoli. Attenzione, allontanarsi da Bagnoli. Ho detto di uscire fuori da Bagnoli, uscite fuori da Bagnoli, e che c***o, uscite fuori da Bagnoli, ah sì. Allora fate il c***o che volete non ho voglia di annunciare sti c***o dei treni cumana da Torre Gaveta a Montesanto. Avvisiamo i passeggeri del treno Intercity VIP, 888, di Trenitalico, delle ore che ne so io, proveniente da Mialzo Portageuna, è diretto Bulonia Centrale, è in arrivo al binario 4 e radice quadrata di 5 sesti. Attenzione! Allontanarsi dalla fascia gialla. Ferma a Mialzo Rogolento, Piasenza, Tamma, Reggio Ermila, Modena. Avvisiamo i passeggeri del treno regionale, delle ore 9.30, diretto per Roma Termini, arriverà con un ritardo previsto di 200 minuti, perché il 9 giugno c'è la votazione, ci scusiamo per il disagio non troppo però. Avvisiamo i passeggeri del treno Piatto Italiano, delle ore 13.40, proveniente dal Risotto alla Milanese, è diretto all'Arancina Palermitana, è in arrivo al Piatto 3. Attenzione! Allontanarsi dalla cucina. Ferma a, Tortellini di Modena, Ragù Bolognese, Schiacciata Fiorentina, Bistecca alla Fiorentina, Carbonara Romana, Ragù Napoletano, Zizzona di Battipaglia, Ragù Calabrese. Avvisiamo i passeggeri del treno Alta Velocità Frecciarossa, delle ore 15.38, proveniente da Salerno, e diretto a Torino Porta Nuova, di sicuro non Porta Vecchia. Trenitalia informa, alla gentile clientela, che in questo treno, è severamente vietato bere gli alcolici, chi non rispetta le seguenti regole, verrà presa pugni in faccia dal capotreno. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS